Ben ritrovati amici lettori di tuttandroid.net siamo tornati con Nexus 5 oggi per vedere una ROM si chiama Vanir basata in parte sul colice AOSP ma con molte funzioni prese in prestito dalla CyanogenMod che si adatta perfettamente a questo periodo c'è un periodo di ritorno dalle vacanze che per molti significa la necessità di avere un dispositivo stabile usabile con tranquillità quindi sempre affidabile questa ROM si propone proprio questo obiettivo nella presentazione c'è scritto a chiare lettere che è una ROM non molto personalizzabile ma con l'intento di fornire sempre velocità affidabilità ed un telefono sempre reattivo in realtà poi provandola ci si rende conto che le personalizzazioni ci sono sono davvero moltissime e possiamo anche utilizzare questa ROM come modello in realtà per tutto il lavoro che è stato fatto da sviluppatori indipendenti per quanto riguarda le custom ROM su KitKat ormai questo firmware, questa versione di Android è uscita da quasi un anno quindi sono stati molti mesi per gli sviluppatori e molti dei quali direttamente dalla community di XDA per lavorare al miglioramento di KitKat sono state create molte funzioni come per esempio over di Paranoid Android le notifiche e ZAP ultimamente rilasciate da CyanogenMod ecco tutte queste diciamo le migliori rientrano in questa custom ROM e ormai visto anche il lungo periodo che c'è stato dietro lo sviluppo sono anche molto stabili e funzionano in maniera ottima andiamo quindi a scoprire in modo più ravvicinato questa ROM come al solito partiamo dal launcher è il Google Now Launcher quindi quello a cui siamo abituati che devo dire però dopo un po' di tempo di utilizzo comincio davvero ad apprezzare soprattutto perché questa ROM ha la possibilità di disabilitare il navigation ring cioè quello che si attiva con lo swipe dal basso verso l'alto sulla barra di navigazione che non mi è mai piaciuto che serve per attivare proprio Google Now ecco usando il Google Now Launcher si ha questa possibilità dello swipe quindi un'ottima secondo me integrazione un'ottima funzione disponibile in questa ROM partiamo quindi dalle impostazioni però ed entriamo subito nelle opzioni sviluppatore perché qua c'è forse una delle possibilità più interessanti fornite da questa ROM cioè lo stock mode stock mode è una possibilità per chi non ama le personalizzazioni troppo avanzate di avere una ROM praticamente identica a quella stock dei Nexus ma con le varie migliorie sulle prestazioni la velocità e la durata della batteria quindi in questo status diciamo che abbiamo una ROM esattamente uguale a quella stock con qualche miglioria quindi che va un pochino meglio andiamo però a togliere questa possibilità dallo stock mode per vedere invece quali sono le vere funzioni avanzate si trovano tutte in questa scheda Voodoo e sono davvero molte partiamo da interface interface ci propone una serie di modifiche sono tutte in italiano alcune parti dei menu invece nei sottomenu diciamo sono ancora in inglese ma non è niente di difficile quindi potrete utilizzarla tranquillamente menu tasto di alimentazione quindi tutte le possibilità offerte per questo menu che si attiva con la pressione prolungata sul tasto power le più particolari sono screen record e on the go mode screen record è la possibilità di registrare lo schermo con questa veloce scorciatoia on the go mode l'abbiamo già vista prendo una penna per farvi vedere vi praticamente catturerà la schermata della fotocamera la metterà come sfondo in qualsiasi schermata vi troviate in modo che possiate utilizzare il dispositivo anche camminando per esempio senza il pericolo di andare a sbattere contro qualche ostacolo che trovate in giro dunque è interessante navigation bar invece si riferisce alla barra di navigazione qua possiamo spostare i tasti di navigazione possiamo aggiungerne possiamo modificarne la funzione navigation ring on off lo switch è proprio per abilitare questo navigation ring io lo tengo spento e poi abbiamo schermata di sblocco tutte le opzioni disponibili sulla schermata di sblocco target sono quelli di cyanogen mode con la possibilità di attivare diverse scorciatoie per lo sblocco direttamente nell'applicazione e poi abbiamo i widget personalizzati massimizzare i widget fotocamera music control quindi niente di particolare la possibilità di abilitare lo sfondo sfocato oppure completamente trasparente in questo caso come vedete è sfocato nella lock screen viene riproposto l'ultimo sfondo disponibile l'ultima schermata visualizzata prima di bloccare il telefono possiamo anche scegliere l'intensità della sfocatura altrimenti possiamo scegliere uno sfondo personalizzato dalle nostre foto oppure anche uno sfondo completamente trasparente poi abbiamo la possibilità di visualizzare lo stato della batteria e permettere la rotazione dello schermo sempre in lock screen passiamo oltre troviamo barra di stato barra di stato con modifiche pressoché totali stile icona della batteria le solite cose diciamo niente di particolare doppio tocco per sospendere che invece ci permette di andare a mettere in stand by il dispositivo con il doppio tocco sulla status bar torniamo indietro passiamo al menu delle notifiche questo menu o meglio sottomenu della rom è particolarmente ricco infatti ci presenta la possibilità di abilitare over e zap notification di cyanogen mode over di paranoia d'android active notification invece di omni rom e halo invece il vecchio la vecchia funzione che poi è stata sostituita da over su paranoia d'android inoltre possiamo anche andare a costamizzare il pannello delle notifiche cioè questo scegliendo la trasparenza del background e la trasparenza delle notifiche e scegliere anche un background personalizzato puoi chiudere automaticamente quando andiamo ad escludere le notifiche e filtrare le notifiche dicevo per queste funzioni che sono le funzioni avanzate di cui vi ho parlato inizio video funzioni avanzate che sono state applicate e create su kitkat avete un controllo completo per esempio di over avete tutte le impostazioni che troviamo anche su paranoia d'android idem per itzap idem anche per halo ring che ormai non troviamo più su paranoia d'android ma per qualcuno era addirittura migliore rispetto a over non secondo me secondo me over fa egregiamente il suo lavoro poi abbiamo anche active notification ecco vi consiglio di non attivare ovviamente tutte assieme queste funzioni perché da una parte è perfettamente senza senso perché fanno più o meno la stessa cosa e poi vanno effettivamente a consumare un po' di batteria soprattutto active notification ma anche over un po' meno invece itzap e halo comunque a voi la scelta passiamo alla scheda more qua abbiamo custom carrier label cioè l'etichetta qua in basso che ci mostra il logo dell'operatore noi possiamo il logo la dicitura dell'operatore noi possiamo scegliere di metterne un'altra dual panel mode che vi faccio vedere poi dopo lcd density possiamo scegliere la densità di pixel dell'lcd quindi avere un effetto tablet piuttosto che è l'effetto di uno schermo più piccolo o più grande sul nostro dispositivo system up remover ci permette di andare ad escludere a disinstallare applicazioni di sistema mi raccomando da utilizzare con criterio e buon senso perché se andate a disinstallare un'applicazione di sistema utile poi renderete la rom inutilizzabile CRT animation è l'animazione di spegnimento dello schermo boot animation invece ci permette di scegliere la boot animation scegliendo tra quella personalizzata della rom oppure quella classica di android dual panel mode adesso ve lo faccio vedere devo uscire chiudendo in questo modo i setting vedete che è la vecchia impostazione che avevamo su paranoid android l'impostazione tablet francamente rende il tutto un po' inutilizzabile bisognerà intervenire anche sui dpi però vabbè adesso non sto a perdere troppo tempo su questa cosa vado a togliere il dual panel rientro nelle impostazioni la parte interface forse l'abbiamo vista tutta anzi no c'è ancora l'immersive desktop impostazioni sulla modalità immersive introdotta con kitkat abilitare a disabilitarla immersive style scegliere il comportamento della status bar della navigation bar quando ci troviamo in immersive mode low profile mode invece interessante vedete che sono andati a è andata a cancellare alcune parti della status bar lasciando solo l'orologio e la batteria e invece i tasti della navigation bar sono stati sostituiti da piccoli puntini poco luminosi che quasi non si vedono questa opzione invece disable the immersive UI swipe gesture fa in modo che quando ci troviamo in immersive mode non venga abilitata la gesture per mostrare o non mostrare la status bar e la navigation bar torniamo indietro passiamo alla scheda hardware hardware ci permette il controllo sui pulsanti quindi risvegliare il dispositivo con la pressione sui tasti del volume cambiare traccia controllare il cursore quando stiamo scrivendo con la tastiera sempre con il volume rocker rientrare questi tasti quando ci troviamo in landscape mode invece per quanto riguarda il power button interessante fast torch che ci permette con una pressione prolungata di abilitare la torcia il flash quick camera che invece ci permette di lanciare la fotocamera e quando abbiamo attivato già il power menu con una seconda pressione terminare la chiamata durante le chiamate appunto e lanciare il lettore musicale quando invece andiamo ad inserire le cuffie invece voice control interessante perché con una pressione prolungata abiliterà l'ascolto vocale e invece con pressioni brevi ci permetterà il controllo media quindi andare avanti dietro con le tracce eccetera poi troviamo le prestazioni prestazioni esattamente lo stesso menu che troviamo su Sayano Genmod niente di particolare però effettivamente c'è tutto quindi customizzare le prestazioni del processore della RAM e andare a migliorare un po' le prestazioni anche per quanto riguarda la grafica e il rendering poi abbiamo USB Fast Charge che ci permette una ricarica più veloce in realtà l'ho provata ho notato che però quando è attivata questa opzione con la ricarica veloce si è vero nel giro di mezz'ora il dispositivo viene caricato completamente ma poi la batteria secondo me dura di meno poi qua c'è la dicitura che questa funzione potrebbe danneggiare il vostro dispositivo ecco io non è che mi fido più di tanto secondo me non vale la pena per quella mezz'ora di risparmio andare ad utilizzare questa funzione si rischia veramente di fondere magari la batteria eccetera e previene risvegli accidentali invece è fatto bene perché permette di bloccare il dispositivo in modo che non si accenda automaticamente con la pressione sul tasto power se il sensore di prossimità è attivato quindi se c'è qualcosa che copre il dispositivo quindi per esempio quando si trova in tasca poi possiamo scegliere l'intestità della vibrazione e la calibrazione del colore che abbiamo anche su CyanogenMod abbiamo poi la parte sui temi che va a completare la parte sulla personalizzazione pacchetto temi nuovo di CyanogenMod completissimo andate a vedervi magari quella recensione in cui l'ho visto più da vicino abbiamo la possibilità in buona sostanza di fare un mix tra vari pacchetti tema scegliendo magari solo le icone solo i caratteri solo gli sfondi di un tema piuttosto che di un altro e quindi personalizzare in modo veramente completo l'esperienza grafica della nostra ROM poi abbiamo sulla parte audio niente di particolare se non la possibilità di attivare il periodo di quiete gli effetti musicali del DSP manager che è già preinstallato e poco altro il pannello estendibile dei volumi display e luci invece è interessante per la status bar brightness slider cioè la possibilità di abilitare lo slider per il controllo della luminosità qua in alto con uno swipe sulla status bar e il controllo della luminosità che nelle opzioni avanzate propone questa regolazione che è quella di CyanogenMod per un dato valore di luce ambientale espressa in lux possiamo attribuire un valore in percentuale di luminosità dello schermo quindi andare un po' a correggere anche nel particolare il comportamento del sensore di luminosità poco altro per quanto riguarda il resto diciamo più o meno le stesse cose andiamo un attimo per sicurezza a vedere qua nelle opzioni di sicurezza sì abbiamo il privacy guard e il blacklist cioè privacy guard che ci permette per le applicazioni che selezioneremo di escludere l'accesso ai dati personali e invece blacklist che ci permette di assegnare dei numeri di telefono che poi non potranno contattarci telefonicamente oppure via sms direi che almeno per questa parte abbiamo visto tutto abbiamo ancora questo security customization multi user support abbiamo la possibilità di abilitare o meno supporto per multi utente forse è più utile sui tablet sui dispositivi mobili smartphone un po' meno comunque sappiate che c'è anche questa possibilità nelle opzioni sviluppatore come vi ho già fatto vedere abbiamo lo stock mode vediamo velocemente quali sono le applicazioni preinstallate abbiamo il browser stock di android abbiamo dsp manager che è l'applicazione che controlla completamente la parte audio dei dispositivi veramente molto completa secondo me a questo punto la migliore in circolazione abbiamo la fotocamera a osp che fa foto praticamente identiche alla fotocamera di google però ha qualche opzione in più però è anche un pochino più scomoda da usare vedete un po' voi quella che preferite abbiamo poi anche omni switch che ci dà la possibilità di usare proprio l'omonima funzione di omni rom e multi rom niente perché l'ho messo io abbiamo i messaggi stock quindi non manca questa vecchia applicazione che per qualcuno era molto bella abbiamo la torcia di cyanogen mode con la solita animazione così in questo modo e direi basta qua sulle notifiche forse mi sono dimenticato un pezzo andiamo a vedere un attimo no sulle notifiche ma sulle applicazioni recenti eccolo qua recent panel abbiamo la possibilità di scegliere il pannello delle applicazioni recenti default sidebar style che è questo quello di omni rom in sostanza con la possibilità di andare a espandere o meno le applicazioni recenti omni rom e se non sbaglio anche slim rom forse è proprio stato scelto per la prima volta da slim poi abbiamo invece la possibilità di posizionare sulla sinistra questo pannello la dimensione scegliere la dimensione del pannello ed eventualmente se scegliamo il default la visualizzazione di default osp scegliere di visualizzare la ram disponibile qua nelle applicazioni recenti vedete qua in alto free ram 889 megabyte direi nella norma poi possiamo scegliere il clear all button che sarebbe questo pulsante qua che è per chiudere tutte le applicazioni recenti bene direi che abbiamo visto tutto parliamo velocemente delle prestazioni di questa rom come avete visto la velocità è davvero straordinaria non ci sono mai impuntamenti la rom è veramente velocissima e quindi paragonabile per la velocità alla rom stock addirittura più veloce di cyanogen mod per quanto riguarda la batteria devo dire che il dispositivo con un utilizzo medio fa due giorni con un utilizzo un pochino più intenso ne fa uno e mezzo quindi leggermente migliore anche rispetto alla batteria stock più o meno sui livelli di cyanogen mod d'altra parte però il software è molto stabile quindi non ci sono mai grossi problemi e quindi non avrete bruschi cali di batteria la fotocamera invece è quella stock a osp oppure quella di google quindi non mi ci sto fermo una fotocamera solita del nexus 5 che secondo me fa belle foto non fa le foto migliori che ci sono tra tutti gli smartphone però fa secondo me il suo lavoro egregiamente consiglierei questa rom sia agli utenti più smanettoni che vogliono molte personalizzazioni sia a quelli che vogliono invece come ho detto nella prima parte del video gli utenti che vogliono un telefono stabile affidabile sempre sicuro perché devo dire che vista anche la maturità raggiunta dalle custom rom basate su kitkat questa vanir in persona veramente in modo completo tutte le personalizzazioni lo fa in modo eccellente non ci sono mai bug veramente non ho trovato nessun tipo di problema tant'è che sono in partenza per l'IFA di Berlino e utilizzerò questa rom credo sul mio Nexus 5 proprio perché mi sono trovato proprio molto molto bene per questa videoprova è tutto un saluto da Matteo per tuttandroid.net Grazie a tutti